Adamo, Don Ivan Sturti. Ma puoi chiamarmi semplicemente Ivan. Questo è il nostro abbero di mele. Non è meraviglioso? Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Voglio che lo facciate sentire il benvenuto. Che cosa ti prefiggi di fare? Voglio fare uno strudel. E poi che succede? E poi sarai un uomo libero, Adamo. Perché non possiamo lasciarle mangiare le mele? Perché le mele sono di Adamo. E Adamo vuole farci assaggiare il suo delizioso strudel. Come stai dicendo che Satana non vuole che io faccia il strudel? È cominciata la battaglia, Adamo. E se non fosse Satana che ti sta mettendo alla prova? Se non è Satana, allora chi è? Dio. Sei riuscito a strappargli di dosso la fede. Ma che mi stai rubando la roba, i mortacci tuoi? Si può usare pistola su terra di chiesa. Perché tu me l'ho detto prima. È andato abbastanza bene, no? Poco divertente. Niente morti. Sapete cosa penso? Che oggi sarà una splendida giornata. Questa è la procedura si faceva. Grazie.